Malta entra nella lista grigia del gruppo di azione finanziaria internazionale come uno dei paesi sotto stretta sorveglianza per il riciclaggio di denaro. Per il direttore di Transcrime Ernesto Savona le raccomandazioni del Gaffi vengono rispettate nell'Unione Europea, ma ci sono scappatoie che rendono alcuni paesi attraenti per i criminali. Oggi ci sono due livelli diversi. Uno è la conformità formale, dove molti dei membri dell'Unione Europea rispettano la dimensione. Nella forma però, nella sostanza, c'è una storia completamente diversa. Non tutti i membri si conformano allo stesso modo. L'autorità antiriciclaggio dell'Unione Europea in via di Costituzione potrebbe risolvere il problema, secondo Savona, e Malta finirà comunque per fare le riforme necessarie. Oggi c'è molto denaro che deve essere riciclato e si possono trovare diversi paesi nella lista grigia e nera dove riciclare denaro. Malta è un paese facile al momento. O era un paese facile, ma probabilmente nei prossimi mesi o anni prenderà quelle decisioni che porteranno Malta fuori dalla lista grigia e i riciclatori troveranno altre opportunità in altri paesi. Il problema di Malta è che finché esiste questa zona grigia diventa attraente non solo sul suo territorio, ma finisce per funzionare come una calamita per un'intera regione mediterranea. È abbastanza noto, ad esempio, che molti traffici navali volti a sfuggire alle sanzioni internazionali che si siano fatti appena fuori dalle acque territoriali maltesi.